Prende il via esattamente dopo 13 mesi dalla Maxi Blitz del 19 dicembre del 2019 il processo Rinascita Scott, un'operazione condotta dai carabinieri con il coordinamento della DDA di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. La prima udienza dibattimentale del processo inizia proprio oggi contro le cosche del Vibonese, i loro legami con ambienti politici istituzionali e della massoneria deviata. Un processo che, lo ricordiamo, si svolgerà nella nuova aula bunker realizzata nell'area industriale di La Mezzaterme. Un'udienza in cui saranno vietate le riprese con la decisione comunicata a tutte le testate, anche internazionali. Ricordiamo che si erano accreditate testate come il Times, la BBC, l'Associated Press ed altre testate internazionali che avrebbero voluto documentare le fasi del procedimento. Oltre 300 gli imputati che dovranno rispondere di circa 400 capi di imputazione. Alle 13 di oggi partirà invece l'udienza per coloro che hanno optato per il giudizio immediato e quindi Giancarlo Pittelli, Mario Loriggio, Salvatore Rizzo e Giulio Calabretta. L'incognita al momento è su chi presiderà il collegio dei giudici. Lo scorso 8 gennaio, infatti, la Corte d'Appello di Catanzaro aveva accolto la richiesta di ricusazione del presidente del collegio Tiziana Macri, la quale è anche presidente della sezione penale a Vibo. Anche per quanto riguarda il troncone con i 300 imputati, la DDA aveva fatto richiesta di ricusazione ma la Corte d'Appello in merito non si è ancora pronunciata. 5 testimoni di giustizia chiamati a deporre dalla pubblica accusa. 58 invece collaboratori di giustizia appartenenti non solo all'Andrangheta del Vibonese ma anche a quelle del resto della Calabria, oltre a collaboratori pugliesi appartenenti a Cosa Nostra siciliana come Gasparre Spatuzza, il pentito che si è autoaccusato della strage di Via D'Amelio e del rapimento del piccolo Santino Di Matteo, ma anche dell'omicidio a Palermo di Dompino Puglisi.